Tutto pronto! Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della condizionata sui 1200 metri in all weather. Parte un po' così, un po' lentamente Time Douglas che rimane in ultima posizione sebbene a contatto rispetto ai primi. Più veloce Midnight Talker che da una gabbia esterna si porta subito a condurre. Arriva immediatamente la curva con lo schieramento che si completa con Rock Dancer, Lebron, Sogno Romantico con la giuba nera arancio. All'interno troviamo Vengo Anch'io, poi con la giuba verde c'è Renegade, alle cui spalle galoppa appunto Time Douglas che è chiuso da favorito. Andromeda Star invece galoppa in quarta posizione all'esterno, siamo già velocissimamente in dirittura d'arrivo. Il primo strappo alla corsa lo dà Midnight Talker che adesso ha una cosa come 5 lunghezze da gestire. Allo steccato opposto, in particolare con Fabio Branca in sella, con all'interno la rincorsa da parte di Lebron che però è sotto frusta. Ci prova Andromeda Star, gli altri che sono lontani a livello siderale a 200 dal traguardo. Midnight Talker è stato solo pizzicato sulla spalla, il suo interprete guarda già il maxi schermo e praticamente ci scappa una prestazione monstre con distacco abissale. da parte di Midnight Talker che ha scavato un fossato con tutti i coccodrilli. Al secondo posto Andromeda Star e al terzo vengo anch'io. L'esperienza, l'attitudine soprattutto su questo tracciato per Midnight Talker che torna ad offrire il rendimento offerto il 22 dicembre, tolta la parentesi in erba, qui è tornato ad essere un perfetto interprete del sintetico romano. 5, la quota conclusiva, Fabio Branca in sella, training di Giannico Lella, colori di Fabio Manservigi. 3, al primo posto per Midnight Talker, quarta affermazione per l'importato da Acclamation. Per il secondo posto, come già descritto in anticipo, a circa 12-13 lunghezze, numero 1 Andromeda Star e poi per il terzo posto il numero 8. Vengo anch'io da Capannelle per la terza. È tutto. Grazie. Grazie.